sapevate che esiste una proposta di regolamentazione dell'intelligenza artificiale sto parlando della i act presentata dalla commissione europea con l'obiettivo di adeguare le norme in materia di responsabilità civile nell'era digitale numerose sono le proposte e gli emendamenti che vengono presentati ad esempio c'è la volontà di definire quali potrebbero essere i benefici ma anche i rischi dell'implementazione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale inoltre si vuole stabilire quali siano i requisiti legali nell'adozione di questa tecnologia e di legnare chiaramente quali potrebbero essere i risvolti legati al rispetto della privacy per approfondire leggi il nostro articolo sul portale tech club Grazie a tutti